Buongiorno, si vede che sono malato, sono tutto rin... vabbè lasciamo perdere comunque c'è un sacco di cose grande una ricerca sulla SEO automatizzata wow cavolo, era logico aspettarsi che l'intelligenza artificiale sarebbe arrivata anche lì però è davvero interessante, sembra che a sopravvivere sarebbe pochissimo sicuramente da studiare in arrivo nuove analytics su LinkedIn, fanno piacere una newsletter molto carina che raccoglie le cose più divertenti delle altre newsletter davvero bellina, ho avuto il piacere di finirci dentro come promuovere i video che è un interessante articolo, c'è una slide che fa vedere la ricaduta dei video all'interno delle newsletter bello, interessante, sicuramente è vero, un video non basta farlo poi va promosso, ci sono anche delle regole abbastanza chiare su come deve essere fatto un video Pornhub ha bloccato tutti gli utenti russi e su ConnectGT si dice togliamo gli Andesmetrica, togliamo dati ai russi interessante questa cosa, forse è giusta da fare Google Maps lancia domande e risposte sui luoghi oh, carina questa cosa, interessante come funziona sempre più in ottica social ispirazione all'acquisto, il 39% dal motore di ricerca 33% dai social e 29% da Amazon pensate quanto è complesso il funnel un bel post che approfondisce, insomma, sicuramente da sapere Google chiude l'opzione per prenotare gli hotel su Google perché? Perché ne l'usano è un incredibile passo indietro mi sorprende che rinunciano a una tossegge sembrava anche una cosa giusta nuovi pubblici personalizzati per Facebook per e-commerce Google ha appena rilasciato l'enhanced conversion per lead sostanzialmente migliorano i tracciamenti su Google Ads e questo è importantissimo da fare subito comunicazioni in tempo di guerra andate a vedere questo video, è incredibile come oggi una guerra, si giochi anche come con la comunicazione online è impressionante e su questa cosa qui ci sono tanti aspetti anche ti puoi essere d'accordo con gli hacker cioè, sembra incredibile ma avere gli hacker dalla propria parte fa la differenza la mappa del local pack di ricerca è più interattiva quindi ti fa vedere sullo stato over più informazioni due aggiornamenti per l'integrazione di Analytics 4 per Google Optimize su cui si possono fare anche tipo di pubblici dedicati a Google Ads molto utile seo, le medizioni del brand non contano dice Google ma è davvero così? un po' di dibattito che secondo me mai non fa mai infine, i cresciti amano l'alcol in realtà quasi tutti gli animali amano l'alcol ma i cresciti hanno la capacità di metabolizzarne un sacco perché immagazzinando cibo questo poi fermenta quindi c'è tanto alcol e quindi i cresciti sono molto abituati reggono benissimo l'alcol oltre al fatto che l'alcol ha un botto di calorie per cui in generale tutti gli animali ne sono attratti perché ti dà una bella bottarella di vita detto questo, torno a Inconvalescenza Ciao Ciao